La procura di Milano acquisirà la relazione tecnica dei vigili del fuoco che hanno compiuto accertamenti in relazione alle cause del crollo dopo le forti piogge di un tratto del manto stradale di corso di Porta Romana nel capoluogo Lombardo, dove sabato mattina si è creata una voragine profonda a 12 metri. Verrà così aperto probabilmente un fascicolo di indagine perché gli inquirenti vogliono capire le possibili responsabilità dell'impresa che ha lavorato sul palazzo al 124 del corso. Nel Mirino ci sono i lavori fatti nei tre piani interrati che ospitano i box condominiali mai terminati. Sarebbe stato proprio il cedimento di una parattia temporanea in legno ad aver causato con le piogge di questi giorni lo smuttamento del terreno. Acqua e fango hanno invaso i piani sotterranei causando il crollo del manto stradale. I lavori di costruzione del palazzo sono già finiti da tempo al centro di esposti presentati sia dai condomini per presunti problemi costruttivi, sia dai vicini per i danni subiti durante i cantieri. Nei giorni scorsi intanto il procuratore Cerrato e il PM Mauro Ripamonti hanno aperto un'inchiesta per disastro colposo in relazione alle esondazioni del fiume Sedeveso nelle ultime settimane che hanno allagato alcuni quartieri a nord della città. Da quanto si è saputo i PM stanno valutando l'ipotesi di reato di crollo colposo di costruzioni. La procura sta infatti indagando su quelle otto ore di acqua alta nella zona nord della città dopo i temporali dell'8 luglio. Il procuratore aggiunto, Nicola Cerrato, coordinatore del Polo Ambiente Lavoro, ha chiesto informazioni al Comune e alla Regione. La richiesta, rivolta agli assessori competenti per Francesco Maran per Palazzo Marino e Viviana Beccalossi per Palazzo Lombardia, è quella di sapere quanto è stato fatto in passato, quali rimedi sono stati adottati e cosa si intende a fare per impedire che la città finisca nuovamente a mollo dopo ogni temporale. Gli inquirenti non escludono di affidarsi a un consulente per una perizia che verifichi eventuali irresponsabilità per omissione. L'esondazione ha creato danni per 25 milioni di euro in città, 47 in tutti i comuni dell'area, dati che hanno spinto la Regione a chiedere lo stato di calamità naturale, ma è solo il caso più grave di quest'anno. La conta aggiornata parla infatti di quattro esondazioni in un mese, 109 dal 1976.